C'è Blink Enorme che mi picchia Minchialo picchio Dai inizia a registrare Lo sto registrando ma che cazzo vuoi? Ho preso Blink Enorme Ho preso Blink Enorme Ciao a tutti ragazzi e bentornati In un nuovo episodio della Tekkin 3 Sono con Jokalien In Tekkin 2 Ciao io sto a casa mia Mi faccio lì E stiamo in TS Ragazzi oggi Blink è un po' schizzato E parla così Ehi ciao Quello che mi si parla Allora Io sto craftando circuiti su circuiti dell'Applied Per fare cose fichissime E che facciamo Che facciamo Allora Abbiamo l'idea di craftare Anzi Vorremmo fare I Barre No i barre Le drum Di Bedrockium E c'è anche E c'è anche una quest Che ci dice di fare qualcosa di Bedrockium Giusto? Un blocco di Bedrockium Credo Sì ma di portarci su A quanto ci vuole fare un blocco di Bedrockium Per fare un blocco di Bedrockium Però proprio per fare il Bedrockium Ci serve un quintale di cobblestone Noi abbiamo smistato un po' di ferro Che come avrete visto dall'episodio di Jokalien Che è scomparso in questo momento Che vuol dire? L'episodio è scomparso Stiamo sciogliendo un po' di ferro Che abbiamo messo Madonna Sto già facendo Ho già fatto un drum intero Praticamente Madonna quanto ferro Sì e guarda quanto ne abbiamo ancora 119 Cioè 8000 Più quello che c'è dentro Più Malatamente rubato la postazione di Luca Signor Oscuro Infatti avete visto anche i baffoni Allora Io pretendo i baffi su Joe Però Cioè a questo punto I baffi su Joe Sì Compratevi dei baffi finti E dateli a Joe Per favore Regalatevi dei baffi Allora Noi dobbiamo fare Allora Vogliamo fare il Bedrockium Quindi allora Transfer node Io direi che Io ne ho due di transfer node E potremmo farne tipo Ok ne ho dieci Bastano Madonna Ne bastano quattro penso Ma dobbiamo fare il blocco Di Bedrockium Sì perché Allora Teoricamente aspetta Allora Abbiamo i crafter Crafter Sì abbiamo gli I crafter Io vado a fare il blocco di diamante Sapete dove? Là Là Noi dobbiamo mettere I world interaction upgrade O gli speed upgrade Eh non lo so Eh no Tutte e due Tutte e due No 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 World interaction A stack E speed upgrade A stack Cazzo Ma come a stack? C'è uno stack di world interaction? Esatto Minchia sai che non ce la faremo Non mai Ma di meno di mai No non è vero Aspetta Vediamo Io sto provando I crafter della progressive automation Che non vediamo come funzioni Per farli Per farli Ci servono Quattro blocchi di redstone Ognuno Eh Quindi mettiamo 16 Chi è che mette tutta la redstone Sulle balesse Ne ho messi 200 Detto niente Avevo usati 200 Lo dice come per dire Ma ne ho usati pochi Ma perché ve la prendete con me Oddio Ma Avevamo 900 di redstone Come abbiamo 259? Perché hai fatto sta cosa? Ci sono i blocchi Aspetta Ah ok Ok Quindi upgrade Ah io mi sono fatto 3 iron crafter Vediamo come funzionano questi crafter Della progressive automation Ok sono riuscito Sono riuscito a fare uno stack Sono riuscito a fare uno stack Ma sei sicuro? Guarda che il world interaction upgrade È semplicemente per prendere i blocchi Da più lontano Tipo no? Eh no È per prendere più cobblestone Ok Quindi dobbiamo fare uno stack Oh ci serve il ferro Per fare uno stack di picconi Oddio Uno stack di picconi Sì uno stack di picconi È vero Non lo sto scherzando Comunque qua abbiamo un sacco di circuiti dell'upload Quindi potremmo iniziare a ingrandire i nostri dischi Visto che non c'entra più niente Zero Io 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 Vai vai Ci penso io con i dischi Ci penso io Ma vai vai È tutto tuo guarda Nessuno ti ha detto di non farlo Ma infatti guarda Nessuno ti sta bloccando Ah teoricamente qua ho 3 crafter Vediamo se funzionano bene Non l'ho mai provato Quali facciamo? Ma Quali da 16.000? No Penso da 4 no Michi? Di che stiamo parlando? I dischi da 4k? Sì sì 4k Vabbè ma adesso non è che c'hai il monitor al 144Hz E il full mega ultra HD E il 4k deve essere everywhere No merda Non abbiamo più bastoncini Non abbiamo più stick? No Vabbè non penso siano un problema dai Tutto sommato Allora facciamo Ok io ho tutto quello che ci serve per Ciancare la zona I blocchi da costruzione per la zona Craftare le cose Transfer node Ci sta Ok Però servono i world interaction E gli speed upgrade Eh un secondo E basta Allora gli speed upgrade E basta Anche una chest Ok abbiamo anche una chest d'oro Dove depositare tutte cose Quindi sì 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 Ci siamo Ci mancano gli speed No world interaction World World interaction upgrade Veramente Che non c'è Upgrade World interaction upgrade Eccolo qua Dovremmo aver tutto in teoria Ma scusa ma quella mod Che ti fa Quella che utilizzavamo nella Sky Factory Che ti fa più crafting Come si chiamava? Che aveva il crafter Ti ricordi che c'è quel coso Che tipo hai Cinque crafting Puoi fare cinque crafting Contemporaneamente Tipo come si chiama? Giuro che non ne ho idea Non ne ho idea neanch'io Cioè penso sia il crafter Ma non c'è in questo pack Mi si è baggato tutto Io non posso più aprire l'uphled Wow Questo panda parla Allora ok Siamo malati ragazzi Abbiamo problemi grossi Tantissimo Gimbrilly is sleeping Allora Maggio Kalian is not sleeping So non diventerà giorno Brava Ma no 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 Abbiamo finito i lapislazzuli Ammazzami i creeper Abbiamo finito i lapislazzuli Davvero Sì How is that fucking possible Lapislazzuli La Non abbiamo i lapis No Vieni a dormire Giore giore Ma come i creeper C'è la quest Quanti rimangono? Aspetta che coggiollo Dai che dormo io Dai dai Bravo Bravo Dai Dai No 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 50 Sono 64 Siete dei cretini Ne mancano 5 Per cosa? I creeper Ma guarda ci sono anche di giorni i creeper C'è ragione Eh ma 5 ce ne mancano? Sì Io non riesco a uscire dalle finestre Che cosa brutta Allora Un lava generator al volo Tipo Proprio brutto Perché un lava generator? Eh perché come la prendi la cobblestone se no? Un cobblestone generator dai Eh allora Dove la facciamo questa farm? Eh Buket 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 La facciamo Sulla montagna No non lo so Ma voi in realtà non è che ci serva così tanta roba Eh cioè Cioè parliamole dai No è presente quel posto in cui abbiamo cercato Ah qua qua Guarda la mia mappa La facciamo qui Ho deciso Ma dove cavolo l'avete messo? Raggo il coso per Fare Ico Discrivere sopra è automatico L'ha automatizzato Michele Con dei tubi Quel coso brutto Che ho fatto Tutto sospeso per aria Tipo È quello Cosa stai facendo Michele? Eh allora Mettiamo tutto quanto in un chunk Perché ho fatto uno spot loader Che carica soltanto un chunk Ok Quindi mettiamo tutto quanto Oddio ci sono gli alberi di mezzo C'è anche un fungo di mezzo Allora Ti tieni Cioè utilizziamo questi blocchi come pareti? Eh È uguale O come Sto facendo il coso al volo Proprio tipo fatto male Ok Va bene Allora faccio così Io ho un grosso problema Questo è un chunk Dove ho messo i blocchi? Allora io farò Che grosso problema hai? Allora io farò un bellissimo Ossidiana generator Devo tagliare il tocco sotto Perché ho sbagliato Ma spaglio Prendi un secchio di No un drum di lava tipo Ah Michele io non l'ho fatto vedere questa forse Cosa? Questa No raga non ci fossi Questa Oddio la spadona gigante Eh sì perché probabilmente Dello scorso episodio registrava Joe E forse non l'ha fatto vedere neanche lei Quindi sì Posso diventare anche così Aspetta Posso diventare Oh Ragazzi abbiamo un problema Il blink gigante Che io vedo in realtà un game really gigante Però va bene Ognuno di voi Di noi vede il personaggio Ragazzi c'è un problema Cioè? Abbiamo finito il quarzo Ma togli i blocchi Farli diventare quarzi normali Che poi nei 171 i blocchi Quarzi normali Come fai aver finito Ah il quarzo certus Il certus quartus Un certus quartus Ma tipo avete un blocco di cobstone Non mi sto chiedendo tantissimo No Ma lo possiamo fare anche con calma off camera In realtà i dischi Non è un problema Sì infatti Allora Come Aspetta Allora Come farlo tipo sollevato no? Ah hai della lava? Eh sì Mi ero portato due secchi perché sapevo che avrei fatto Ok aspetta Ma sei cretino? Ma sei cretino? Ma che problemi hai? Oddio no Allora Io sono iniziato al mondo A creare i L'Ossidiana Generator No mi serve un pezzo di cobstone e basta Non è così difficile fare un generatore di cobstone Dai Allora Che poi io ho fatto una scoperta incredibile Che se metti la Scoperta incredibile in realtà adesso mi diranno tutti che lo sapevano Se metti acqua e lava nella tinker ti dà l'Ossidiana Ah sì 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 è vero E io non ci avevo mai provato o pensato Beh in effetti è logica No ok sì Dopo che l'ho visto ho detto Ah wow Perché non l'ho mai fatto? Sì Vabbè dai Questa tinker parla Questa tinker parla Allora metti qua l'altro bucket d'acqua Madonna sti cosi Ok metti la No lo posso mettere anche qua Ma in realtà Ah metti Fermo Così Così ah qua metti la lava E qua metti l'acqua È semplice Non serve un Creare un vero generatore di cobstone No lo so lo so perché c'è il cosa Allora basta mettere i transfer node qui Ok E facciamo una striscia fino a Tipo qui Che cosa Come si è messo questo Ok tipo fino a Sì ma Allora Non so se hai capito Che non abbiamo tutti questi world international upgrade Quanti ne hai fatti scusami È uno stack Oddio porca troia è pieno Michele è pieno Cazzo Eh appunto 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 Io ho fatto questi iron crafter Che non ho idea di come funzioni No che metteremo tipo qua Qua E Ma ci servirebbe tipo un Un Aspetta cos'è questo iron crafter What E devono esserci almeno un Cioè deve esserci almeno un world interaction upgrade Per far prendere al transfer node l'idea Che deve scavare la cobblestone Ciao devi scavare la cobblestone Che hai fatto Joe Ah ok Ok quindi Almeno un world interaction upgrade Porca di quella vacca Eh no no infatti Ok Adesso li metto Ma in realtà ci converebbe dividerli Blink Avete un piccone in diamante Per rompere questo blocco d'ossidiana Perché io ho l'hammer E romperei qualsiasi cosa Anch'io ho l'hammer Aspetta Non ho il coso però Quello di Cosmium No smettina Michele di rompere Le cosi con l'acqua Oh è stato È stato È stato Metti la cobblestone Che c'entro io Eh Trasmetti droganza Fattanza Raga ma dite che col piccone di Smenold Ce la posso fare No Eh se c'è scritto Harvestable Sì se no no E non penso Quanti sono in totale Quanti sono in totale Eh cosa Ehm i Come si chiamano Raga I transfer node Quanti sono in totale Dieci Dieci Se uso il martello si rompe tutto Eh sì No rompi anche la cobblestone Rompi tutto Giorgio Vabbè tranquilla dai usa il martello Uno due tre Quattro Cinque Sei Sbam 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 si sei ancora al dieci per cento Tipo Sì ti vuoi infierire Otto Eh Merda Otto Mamma mia Ci metti Spaccati Vabbè sticazzi Faccio così Sette qua Sette qua Sette qua Aspetta che spaccolate Non so quanto ci convenga Utilizzare questi crafter Eh non lo so Sono un po' lentini Ma scordami un secondo Quello che avevi usato Nella Sky Factory Qual era? Eh era quello Mi sembra del landerio Ma non penso proprio In realtà Si chiama sempre crafter Ma è quello che ha tipo Un sacco di crafting Cioè tipo ne ha sei no? Nella stesso slot Se lo dici tu? Se è quello del landerio Hanno Reso dieci volte più difficile Il crafting Perché si fa con le teste di zombie E il solarium Ok Cosa che non abbiamo Quindi Ok rimetti a posto la lava qua col secchio Ok Ma è andata raga Ci siamo ci siamo Ce l'abbiamo quasi fatta No merda Eh serve un transfer pipe però Qua Al posto di dove sono io Perché rimane in movimento? Sto cercando di farla Ok Ma perché questa lava è più rossa Dell'altra lava? Raga Oddio perché quella lava è più rossa Anche la la vedete anche tu più rossa Sì Non ero drogata io Perché qua il movimento è più che altro? Eh perché vuol dire che non c'è la lava? Non è vero la lava c'è Non è vero la lava Te lo dico io La lava c'è La lava c'è? Qua in mezzo devi metterla Dove sono io? Ok A posto Ok Eh va bene ci siamo Quindi sta crestando cobstone Però tu devi mettere un transfer pipe qua Ma perché? Eh perché Per portare tutto quanto Ma io voglio vederlo nei Nei Ma ma Guardalo qua Ecco E adesso Quasi tutto intassato Perché è lentissimo Dovremmo farlo in diamante forse Già L'autocarcinio di diamante? Però Siamo già a 5 blocchi di double compressed cobstone Che è niente Perché a noi serve la octuple compressed cobstone Esattamente Quindi Dovremmo lavorarci un pochino Per renderla un pochino più efficiente Questo andrà avanti Eh in realtà sì Sì Potremmo anche Farci liazzi nostri Liazzi Che cosa vuol dire? Non lo so Io non ho la più palida idea Di quanto sia durato questo episodio Manco io Neanch'io Zero Quindi Quanto Ma perché mi stavo divertendo Quando Oddio aspetta Ma c'è l'acqua Non l'avete messa dentro l'acqua A sinistra dell'acqua Avete tolto tutta l'acqua Sopra l'acqua Destra dell'acqua Zombie Non abbiamo le teste di zombie Merda Sono caduto nella Grazie Giorgio Bene Non ti picchio Adesso ti picchio Ok È ferma l'acqua? No Ho sminchiato l'acqua Teoricamente Dovrebbe esserci un enchant Che Ti permette di sdroppare più teste dagli zombie No? Credo Ma è l'ultimo Ma è in te Raga raga Chiliamo giusto i 5 No ho fatto la cazzata Sì infatti Ho fatto la cazzata Ho fatto la cazzata Con l'hai fatto? Con l'hai fatto? Guarda qua L'ossidiana generator Per sbaglio No L'ho visto Oddio è diventata tutta ossidiana Perché sei così stronzo Alvi perché sei così stronzo? Che è successo? Che hai fatto? Come hai fatto a fare questa cosa? Spiegamelo Eh per sbaglio ho droppato il secchio d'acqua Minchia ci metteremo una vita Allora raga abbiamo ucciso gli ultimi creeper che ci mancavano Però io ho lanciato il libro delle quest Dove è andato? No l'ho perso Ma il fatto è che praticamente dobbiamo uccidere delle streghe Dei ghast E dei weeder E non sappiamo che cosa intende per weeder Perché sono weeder boss Siamo fottuti Siamo stati minacciati da una persona Che dobbiamo finire il video perché è arrivato a casa e è stanco e ha fame Giustamente Giustamente Direi giustamente Abbiamo fame anche noi Quindi ci vediamo domani sul canale di Di gioca? Mio? No di mio Quanto menti? Mamma mia Ci vediamo domani sul canale di Michele Ovviamente non alle due perché Michele lo farà uscire in ritardo come al solito Di iscriverti dal canale di entrambi No di tutti Di tutti Qualsiasi E niente ci vediamo domani con un altro video Ciao Ciao